Dottore, sono una minchia di mongolfiera. Devo dimagrire. Sì, mi dica, lei la mattina si alza. Minchia, per fortuna. E che cosa fa? Bestemmio. Nel senso, a colazione. A colazione, bestemmio. A colazione, di solito, cosa prende? Principalmente gli insulti dai vicini, che minchia, mi sentono polconare alle 7 di mattina. Non è il massimo, insomma. Poi lo lasciano sempre aperto, no? E quindi gli piovono proprio le madonne nel salotto. Lei cosa mangia? Eh, la pizza, cioè il cibo, tu che cazzo ti mangi i tappeti? Lei si alza la mattina. E meno male. Poi va in cucina. Chi? Lei. Una tipa. Lei nel senso tu. Mamma, non è che ho la tipa e non lo so, che su tutto ho fatto.